Bene, buonasera a tutti. Grazie della vostra presenza qui e di condividere il vostro tempo con noi. Noi partiamo da una domanda collegandoci anche al tema di questo Festival della Spiritualità. Io sono Gianluca Montaldi, direttore editoriale di EDB, ma quello che importa sono gli altri due oratori che verranno dopo di me. Io faccio solo una piccola introduzione e cercherò di moderare i loro interventi. La domanda da cui potremmo partire stasera è come si può guarire da un torto subito, che è un'esperienza che tutti noi facciamo, credenti, non credenti, uomini, donne, e comunque la nostra fallibilità umana la sperimentiamo a volte anche come un torto, non semplicemente come un caso, come un destino. A volte la sperimentiamo come un qualcosa che qualcuno ha voluto farci del male. Allora, come guariamo da questo tipo di ferite? Una risposta può essere, ce la diamo molto spesso, che il tempo guarirà questo tipo di ferite. Ma sappiamo che forse per le piccole cose può essere, ma per le grandi cose questo succede poco. Il tempo passa, ma la ferita resta anche semplicemente al modo di una traccia sul nostro corpo o nel nostro cuore. E quindi bisogna aggiustare qualcosa, in qualche modo bisogna chiedere una riparazione, bisogna chiedere scusa, bisogna affrontare il perdono, torto e perdono. E in qualche modo bisogna fare un passo in più della semplice risposta ovvia, il tempo farà guarire le ferite. Di fronte a un errore, a un fallimento, a uno sbaglio, a un torto, bisogna appunto andare verso una sorta di riparazione, di guarigione. Non per niente, nei nostri giorni parliamo di giustizia riparativa anche in questo senso, ma anche questa forma, la forma della riparazione, funziona e non funziona, perché comunque il dolore ti resta. Anche se qualcun altro ha pagato per quello che ti ha fatto, il dolore resta. Appunto non funziona se non ci ricordiamo che anche in qualche modo io stesso devo riconciliarmi con me stesso, riconciliarmi con il fatto di aver permesso a qualcun altro di fare male alla mia storia e alla mia vita, di aver fatto in modo che altri mi facessero del male, che altri rompessero il mio equilibrio di vita. Quindi c'è un percorso che va molto al di là dell'ovvietà di quello che ci diciamo e tocca invece lo sforzo di affrontare le nostre fragilità, appunto le nostre ferite. È un po' di questo che vogliamo parlare prendendo a pretesto il testo del professor Matthew Potts che è titolato proprio Perdono. Una diversa narrazione perché tenta di leggere l'idea, il concetto di perdono nelle modalità che verranno di seguito esplicitate. Madre giapponese, padre statunitense, insegna morale alla Facoltà di Divinity alla Harvard University in Massachusetts, insegna morale, sacramentaria e teologia pastorale e particolarmente interessato da questo testo emerge molto al rapporto tra letteratura e teologia, come mettere in confronto e come far dialogare tra loro letteratura e teologia. Oltre a questo è anche sacerdote della chiesa episcopaliana statunitense e svolge il suo ministero anche come ministro di questa chiesa. Grazie. Grazie. Grazie per la visione, per la visione di questo festival. I'd like to especially thank the festival for holding this session and thank ADB for publishing the book, Roberta e Gianluca for bringing me here to Italy and to Morena for responding to the book. Innanzitutto grazie, grazie a tutti per avermi dato il benvenuto, per avermi accolto a questo festival e per avermi dato la possibilità di partecipare a questa sessione di questa sera. Grazie alla Casa Editrice per aver pubblicato il mio libro, grazie a Roberto Gianluca per avermi portato qui in Italia per questa presentazione. And also I need to apologize for you because I don't speak Italian. We Americans are very uncivilized. We only learn one language. So forgive me and thank you to Simona for translating as well. Mi scuso anche se non parlo italiano. E noi americani siamo un po' incivili. Impariamo soltanto l'inglese. Quindi questa sera mi ringrazia gentilmente e tradurrò il suo intervento. So this festival's theme is mistakes or the mistake. And when we think about mistakes, as Gianluca said, we naturally also think about forgiveness as a response to mistakes that we have made or that we have suffered. So today I want to say something about that. But I also want to focus my remarks upon forgiveness itself as a mistake. Il tema di questo festival sono gli errori, il torto. E quando pensiamo agli errori che compiamo oppure che subiamo, naturalmente ci viene da pensare anche al perdono come una reazione, una risposta agli errori che abbiamo compiuti. Ecco, io vorrò, cercherò di fare qualche commento su questo, ma vorrei parlare anche, innanzitutto, del perdono come errore esso stesso. Because I believe that the way we practice forgiveness in our lives, the habits and patterns of forgiveness in our lives are mistaken and often lead to increased suffering in victims. Furthermore, I think that these misunderstandings, these mistakes in forgiveness are premised upon a mistaken conception of justice itself, a conception that only a robust commitment to forgiveness itself can overcome. Questo perché il perdono che noi pratichiamo, le abitudini, il modo in cui concepiamo il perdono nella nostra vita, secondo me nascono da degli assunti sbagliati, errati e che portano ad una ulteriore sofferenza per le vittime. E inoltre questa errata concezione del perdono nasce proprio, appunto, anche da una concezione errata della giustizia, una concezione, un'idea che può essere superata soltanto con un forte impegno nei confronti del perdono. So, two main ways I see forgiveness as a mistake. First, at least in my experience, offers of forgiveness are often understood as invitations to reconciliation or to restored relationship. When I say to someone, I forgive you, often what I imply or what is understood is I am saying, when I say I forgive you, I am saying I am willing or I am ready to reconcile with you. Ci sono due aspetti che rendono la nostra concezione di perdono in qualche modo errata. Innanzitutto, spesso quando pensiamo al perdono, lo leghiamo al concetto di riconciliazione o di ricostruzione di una relazione. Cioè, quando si dice ti perdono, spesso quello che viene implicato, quello che si intende, è anche sono pronto, sono disposto a riconciliarmi con te. I believe reconciliation is a worthy goal, but reconciliation is not always warranted. Victims must be safe, at the very least, before reconciling with their offenders, and they should be allowed to decide on their own terms and in their own time whether they can trust those who have harmed them and how much they can trust those who have harmed them. La riconciliazione certamente è un obiettivo degno, però non è sempre adeguato o possibile. Innanzitutto, le vittime devono poter essere al sicuro, come minimo, prima di potersi riconciliare con chi ha fatto loro del male e devono poter decidere, in base ai loro tempi, in base ai loro termini, se si possono fidare delle persone che hanno fatto loro del male e quanto si possono fidare. La nostra concezione del perdono molto spesso porta a mettere pressione sulle vittime, le spinge a cercare delle riconciliazioni che sono troppo veloci, che non sono sicure o che sono anche non sagge e questo diventa un errore, diventa un errore morale. Però voglio anche essere chiaro nello spiegare che il rifiuto di riconciliarsi può andare di pari passo, può coesistere, anche con il rifiuto della ritorsione, cioè di fare male come ritorsione. La decisione morale di riconciliazionare o rifiutare la riconciliazioni, la scelta morale morale di scegliere la riconciliazioni e di mantenere la pazza è una decisione significativa di sua propria, se o no uno ha deciso di riconciliazionare. E questo, penso, è il lavoro reale della riconciliazioni. La decisione, la scelta morale di non lasciarsi andare alla ritorsione, alla vendetta, invece a cercare a mantenere la pace, è una decisione molto significativa, a prescindere che uno decida o meno di seguire la via della riconciliazione, ma decidere di non vendicarsi facendo del male è già una decisione molto importante e credo che sia proprio questa l'opera, il senso ultimo del perdono. Quando invece viene messa pressione alle vittime e gli viene detto appunto di riconciliarsi con chi ha fatto loro del male, anche se queste persone non si sono pentite e non si sono guadagnate questo approccio. Ecco, io credo che questo sia un errore. E questo è il primo errore. Il secondo errore che facciamo quando parliamo di perdono è che spesso lo associamo alla soppressione della rabbia, di una rabbia che ha un diritto di esistere. Spesso quando diciamo ti perdono pensiamo che questo debba implicare anche il non sono più arrabbiato con te. Io credo che, certo, è vero che la rabbia cronica può anche fare male, però bisogna anche fare molta attenzione al modo in cui governiamo, diamo delle regole alla rabbia delle vittime, cerchiamo di controllare la rabbia di chi ha subito un torto. La riflessione morale dovrebbe riguardare non i sentimenti, non quello che proviamo, ma come agiamo, quello che poi facciamo concretamente. È un ironico nella cultura americana, ma probabilmente anche nella cultura occidentale più ampia, che le persone che normalmente, che tradizionalmente soffrono di più, e penso ad esempio alle donne o alle persone di colore, sono anche le persone la cui rabbia tolleriamo di meno o siamo meno disposti a tollerare. Questo mi preoccupa perché l'angere, penso, è un'emotional reazione a ciò che ha stato fatto, invece di una giustificazione per ciò che si può fare. Quando suppressiamo il right delle vittime di essere angere, silenziamo i loro conti legittimati, i loro storici di loro in giustizia, e eserisce la realtà e la storia di ciò che ha stato fatto a loro. queste vittime. E anche questo, secondo me, è un grave errore. le persone che sono arrabbiate per un'ingiustizia, che non sono pronte a riconciliarsi, ma che comunque sono fortemente impegnate a trovare la pace, non sono in contrasto con il perdono. Ed è invece un errore pensare che la rabbia di per sé significhi l'incapacità di perdonare. In realtà la rabbia non fa altro che segnalare la realtà del torto. Questi due errori che riguardano appunto il perdono, e cioè l'idea che il perdono sia necessariamente associato alla riconciliazione e alla rabbia, non so esattamente perché, cioè non so esattamente da dove sia nata questa associazione, questo legame. Ho le mie teorie, ma insomma quello che per ora posso dire è che non credo che ci sia una giustificazione o che questo sia ancorato nelle scritture del cristianesimo. Gesù non dedica troppe riflessioni ai nostri sentimenti, a come ci dovremmo sentire, parla invece di come dovremmo agire e è vero che il Nuovo Testamento aspira alla riconciliazione, però allo stesso tempo indica anche che la capacità dell'essere umano di raggiungere la riconciliazione ha i suoi limiti e che soltanto Dio può alla fine dei tempi riconciliare tutte le cose nei tempi di Dio. E allora, eliminando, togliendo questi due errori dell'idea di perdono, che cos'è il perdono? Beh, io credo che il perdono sia una pratica d'amore e in particolare la pratica dell'amare i nemici. Chiaramente amare il proprio nemico è un comandamento molto difficile che ci ha dato Gesù perché deve essere in equilibrio con altri comandamenti, in particolare il comandamento di amare il nostro prossimo e amare noi stessi e entrambe queste cose a volte limitano la nostra possibilità pratica di amare i nostri nemici. Il comandamento di amare è centrale per la insegnazione di Gesù e un guardare può riconoscere come questa insegnazione anche stabilisce la idea di giustizia in questo Sermone sul Ponte questo è Matteo 5 Gesù dice tu hai ascoltato che era detto un uomo per un uomo e un uomo per un uomo e Gesù anche hai ascoltato che era detto e il comandamento di amare gli altri è fondamentale e centrale nell'insegnamento di Gesù anche il comandamento di amare i propri nemici e credo che esprima molto chiaramente l'idea anche radicale della giustizia sostenuta da Gesù nel Sermone della Montagna in Matteo 5 38 Gesù dice avete sentito ciò che è stato detto occhio per occhio dente per dente e poi prosegue nel dire avete sentito che vi è stato detto ama il prossimo tuo e amerai il prossimo tuo e odierai il tuo nemico ma io vi dico amate i vostri nemici e pregate per coloro che vi perseguitano Gesù però assicura anche a chi lo ascolta e poi a chi lo legge che questo insegnamento non cancella non abolisce la legge dei profeti ma al contrario la realizza e questo come è possibile sembra essere un po' in contrasto perché Gesù fa naturalmente riferimento nelle sue parole a quello che viene scritto in Esodo 21 e cioè darai la vita per la vita occhio per occhio dente per dente mano per mano piede per piede bruciatura per bruciatura ferita per ferita livido per livido in English we call this the lex talionis which is a Latin phrase which is also the root of our English word retaliation I don't believe there's an italian analog to the English word retaliation but what's central to both the English word retaliation and the lex talionis is the idea that justice is a form of compensation a form of payback eye for eye tooth for tooth etc this is called the lex talionis the law of the talionis now the word in English which in Italian we would translate as retorsion and retaliation c'è questo tal che fa proprio riferimento alla radice latina dell'espressione lex talionis la legge del taglione ecco in questo concetto c'è l'idea che la giustizia è una forma di compensazione un modo di ripagare occhio per occhio dente per dente so when you are wrong the idea of justice is that you are owed something you should be paid back in kind for what you have lost again eye for eye tooth for tooth and in fact the language of forgiveness in the modern West in English the word forgive in Italian perdonare they follow this basic logic which the root of these words come from the word for gift which is different from the New Testament language around forgiveness the Greek questo significa che quando subiamo un torto bisogna essere in qualche modo ricompensati bisogna essere ripagati in natura per quello che si è perso a causa di questo torto occhio per occhio dente per dente nella lingua del perdono nel cristianesimo occidentale moderno si usano delle parole come in inglese forgive e in italiano perdonare che seguono un po' questa logica di base perché hanno come radice etimologica il concetto del dono è diverso nel greco del nuovo testamento ma appunto nelle parole che usiamo oggi si ritrova la radice del dono cioè il dono che fa parte in qualche modo del perdono appunto so the presumption here about justice is that justice is about payback that what has been lost may be returned to us in some way and this makes sense on one reading of the passage from Exodus but we actually have no evidence that these teachings were ever taken literally by ancient people we have no examples no historical evidence that the people of God were ever plucking out one another's eyes or cutting off their hands and then calling it even at least not with any habit quindi la diciamo la concezione l'assunto concettuale dietro questa visione è che la giustizia è una questione di compensazione di ricompensa cioè quello che è stato perso che ci è stato sottratto va in qualche modo ridato restituito una prima lettura questo sembra aver senso può sembrare sensato però in realtà non esistono prove che questi insegnamenti siano mai stati presi alla lettera dalle comunità antiche cioè non leggiamo da nessuna parte che le persone di Dio che il popolo di Dio abbia mai cavato gli occhi a qualcuno che abbia mai tagliato concretamente le mani per dispensare la giustizia quantomeno non come pratica comune insegnamenti in realtà il senso principale di questo insegnamento era una metafora dell'uguaglianza, negli tempi antichi gli uomini potenti potevano fare quello che volevano agli uomini più poveri e invece questo insegnamento ci dice che non c'è un occhio che valga più di un altro, l'occhio del ricco vale esattamente come l'occhio del povero, il dente del ricco vale come il dente del povero, quindi è un insegnamento che ci dice che tutti noi abbiamo pari diritti, siamo di pari livello davanti a Dio. E quindi di nuovo il concetto non era tanto dell'uguaglianza tra torto ma l'uguaglianza tra esseri umani davanti a Dio e per Gesù la realizzazione logica o la conseguenza logica di questo insegnamento non è soltanto la pari dignità davanti a Dio ma anche pari amore, questo cosa vuol dire? Che Dio ama sia chi ha subito il torto sia chi lo ha compiuto e questo pari amore sia per chi ha subito sia chi ha compiuto il torto è il fondamento della giustizia di Gesù. Dio ama i miei inizi tanto come Dio ama i miei e se questo è la base della giustizia nella concezione cristiana, allora il nuovo problema, la nuova domanda per la giustizia cristiana o per la giustizia di giustizia è come dovresti rispondere al tuo wrongdoer if your wrongdoer is the one whom God loves. Harming them in return, harming them in kind, imposing equal violence upon them would be a serious mistake. A system of justice built upon this sort of basic mistake, as my American system of justice manifestly is, would amount to a severe and an institutionalized injustice. E dunque questa nuova concezione di questa uguaglianza e di questo pari amore sia per chi ha subito sia per chi ha compiuto il torto ci porta a riconsiderare, a riflettere su che cosa significa rispondere, reagire ad un torto subito, come si reagisce? Fare del male allo stesso modo, in natura, imporre pari violenza? Beh, sarebbe in questo caso, in questa visione un grave errore. Un sistema di giustizia che invece sia fondato proprio su questo errore essenziale, come avviene nel sistema giudiziale americano, è sinonimo di una ingiustizia grave e istituzionalizzata. Like a lot of scholars, I'm good at taking things apart and not so good at putting things back together. So the question I have, I know this festival, the spirit of it is one of inquiry. The question I have for you and that I don't have an answer to is, if all of this is true, what sort of justice, what would justice look like if it was actually built around this notion of forgiveness? Come come molti studiosi, molti ricercatori, io sono molto bravo a dissezionare le cose, analizzare i problemi, non è sempre facile poi trovare e rimettere insieme tutti i pezzi e dare una risposta. E quindi ecco, pongo una risposta a cui non necessariamente io so dare una, pongo una domanda a cui non necessariamente so dare una risposta. E cioè che tipo di giustizia è la giustizia che è incentrata non sulla ritorsione, sulla punizione, ma invece sull'idea di perdono? I think this is difficult for me and maybe for others because this type of forgiveness, this type of justice has never existed and so we don't know what it looks like. But we want to ask this question, what does forgiveness do? What does a forgiving justice do? It does not reconcile and it does not relinquish anger, it does not retaliate, it does not return harm for harm. We know what it doesn't do, so what does it do? How does it foster justice? È molto difficile dare una risposta perché questo tipo di giustizia di fatto non è mai esistita, non la conosciamo. Abbiamo visto che cosa non fa questo tipo di giustizia. Se è indica e che non risponde al dolore con il dolore, allora che cosa fa? Cioè sappiamo cosa non fa, ma questa giustizia com'è allora e come porta avanti appunto proprio il senso di giusto di giustizia. As I said I don't really have a good answer, but allow me to suggest in conclusion an approach. Forgiveness refuses retaliation and the morality of payback, but it also refuses the possibility of payback, especially in the grave cases that John Luca mentioned. Retaliation not only offends God's love for our enemy, it also fails utterly to redeem the wrong our enemy has done. Reciprocal violence cannot undo what has been done. Come dicevo non ho risposta, però in conclusione permettetemi di suggerire un approccio, un modo di concepire questo tipo di giustizia. Dunque il perdono rifiuta la ritorsione, la vendetta e rifiuta la morale del ripagare con la stessa moneta e rifiuta proprio anche la possibilità che questo avvenga perché la ritorsione non soltanto offende l'amore di Dio per il nostro nemico, ma non riesce assolutamente a redimere il torto che il nostro nemico ci ha imposto. La violenza reciproca, rispondere con la violenza non può cancellare il torto che ci è stato fatto, non può cancellare ciò che è successo. Ovviamente ci sono attori di riparazione o di riparazione che possono rispondere gli effetti di un wrongdoing, ma il fatto di un wrongdoing non può essere non fatto, e la ritorsione, ancora, non può ridurre il wrong. Credo che ogni giorno iniziamo a notizia e a proof che la ritorsione non può ridurre il pasto o ridurre le wrong. È vero che ci sono delle forme di riparazione che possono mitigare gli effetti del torto, però resta il fatto che la ritorsione non può cancellare quel torto, non può riscrivere il passato, questo lo vediamo tutti i giorni al telegiornale, lo leggiamo nelle notizie, cioè ci sono forme anche di ritorsione, di vendetta, che però non possono riscrivere il passato. ... ... possible compensation for things that cannot be compensated, forgiveness refuses that magical thinking and denies any attempt to reverse the past. Forgiveness thus resolves to leave its wounds open, and in doing so it aims to build a possible future upon an honest account of the past, and to build a possible future that doesn't attempt to undo an irreversible past. Laddove la ritorsione promuove l'illusione, ci racconta l'illusione di una possibile compensazione di cose che invece non possono essere compensate, invece il perdono rifiuta questo pensiero quasi magico e nega qualsiasi tentativo di riscrivere il passato, di portare indietro il passato, e così il perdono accetta di lasciare la ferita aperta e nel farlo cerca di costruire un futuro possibile, invece di pensare di cambiare un passato irreversibile. Thus, despite the impression that forgiveness overlooks wrongdoing, in fact forgiveness preserves the fact of wrongdoing. To say I forgive you is also to say you have wronged me. What forgiveness seeks therefore is not to erase a past harm, rather it seeks to ask what life might still be possible in the wake of irreversible harm. What forms of repair might still be available when we abandon our illusions of retaliatory compensation. Nonostante l'impressione che possiamo avere che il perdono ignori il torto, in realtà non è così. Il perdono preserva il fatto che sia stato commesso un torto, e cioè dire ti perdono significa anche dire tu mi hai fatto un torto, tu mi hai fatto del male, e quindi quello che il perdono cerca di fare non è cancellare il dolore passato, al contrario cerca di chiedersi quale vita ci può ancora essere, quale vita può ancora essere possibile sulla scia di quel dolore, dopo aver subito questo torto irreversibile. E chiede anche quale forma di riparazione può ancora esistere quando le illusioni di una compensazione basata sulla ritorsione, sulla vendetta invece sono state abbandonate. Questo significa che il perdono di fatto è più simile ad un lutto che a un miracolo, è più una tragedia che un trionfo. E allora la domanda che io voglio porre è come possiamo costruire un sistema di giustizia che sia basato su pratiche anche tragiche di lutto, di perdita, invece che su fantasie di redenzione violenta? Grazie. Grazie mille. Grazie Matthew. Grazie. 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 E se vogliamo poi la grande narrazione che Gesù sulla croce ha ottenuto, ha conquistato, ha pagato il perdono di Dio per tutti, una qualche connessione con questo ce l'ha. Però volevo ritornare su un aspetto sottolineato dal professor Potts, riassumendolo così. Non possiamo fare in modo che non ci sia stato fatto quello che ci è stato fatto, in modo particolare relativamente al torto e al dolore. E la domanda che viene, che mi nasce dalla relazione del professor Potts, è allora forse ci devono essere delle strade, delle ritualità o delle vie per celebrare questo futuro che ci apra una giustizia che ancora non vediamo e che ancora in qualche modo facciamo fatica a vivere. Ed è su questa base di questa domanda che passo adesso la parola alla professoressa Baldacci, che ringrazia anche per essere qui e per condividere questo momento. credo che molti di voi già la conoscano, teologa, liturgista, docente di liturgia all'Università Salesiana di Torino, collabora con l'Ufficio Liturgico Diocesano e ha varie pubblicazioni già in italiano. Ricordo solo nel 2018 una comunità che celebra. quindi passo nella parola a lei anche per le connessi perché effettivamente anche la Chiesa Cattolica, le comunità cristiane hanno elaborato delle procedure di riconciliazione. Vanno o non vanno d'accordo con questa visione? Poco, poco d'accordo. Beh, su questo quindi abbiamo tanto da camminare, no? La mia questa sera vuole essere una sorta di rilettura tra le pagine di questo testo che, come vedrete, innanzitutto a me ha suscitato molte domande, molti itinerari di riflessione, spero anche per voi e li condivido con voi in una sorta allora di riscrittura di questo stesso testo così come io ho avuto modo di ascoltarlo, interiorizzarlo e anche riscriverlo in alcune parti. Questa sera siamo stati invitati dal professor Potts ad affrontare una delle conseguenze forse più dolorose della nostra esistenza, appunto, toccare con mano di essere dei legni storti, cioè essere consapevoli che prima o poi siamo causa di un torto, magari anche involontariamente o di subirlo, e misurarsi con quella vertigine del perdono così alto, quasi irraggiungibile, così come abbiamo ascoltato. Perché c'è una stretta connessione tra il torto e il perdono. L'uno non può vivere senza l'altro, non può esserci infatti perdono senza un torto subito, senza una colpa commessa. Ecco, su questo per esempio, sulla riconciliazione, molte esperienze di riconciliazione sono inconsistenti perché viene proprio a mancare questa stretta correlazione, su questo potremmo aprire un lungo discorso. Però certo è, noi ci misuriamo con questa dimensione drammatica della nostra vita, della nostra umanità. L'esperienza di un torto, scontrarsi con il torto, fare i conti anche con le conseguenze di un torto, le ripercussioni che un torto genera, sia nel rapporto tra di noi, ma anche nel rapporto con Dio. Perché come abbiamo ascoltato, le due dimensioni sono strettamente legate l'una all'altra. Allora la domanda che il saggio ci pone questa sera, ma è possibile dare e ricevere il perdono senza ferire quelli che lo hanno subito? Di fronte alla sofferenza, pensiamo anche a delle situazioni gravi, drammatiche, no? Di fronte alla sofferenza di chi ha subito un'ingiustizia, come si può obbligare, tra virgolette, capite, al perdono? Esigere, cioè dalle vittime, il perdono. Non è forse anche questo un torto, un oltraggio morale? Io direi anche una violenza. Ecco, questa è una delle storture che spesso subiamo, che creano ulteriore sofferenza e che non sviliscono e non guariscono il dolore. Anzi, in molti casi lo rinnovano, lo perpetuano, lo rendono insanabile. Il saggio del professor Potts è una vera e propria narrazione, il sottotitolo dice una diversa narrazione, una narrazione e altra. C'è un modo nuovo, lo avete ascoltato, di affrontare il tema. In che modo si pone questa diversità, questo tentativo di affrontare il tema in modo, diciamo così, inconsueto, forse non abituale? Sceglie, cioè, un approccio originale, quello che perlomeno io ho colto come tale, anche che mi ha stimolato molto. Prima di tutto, perché nelle prime pagine, se poi avete modo di leggere, soprattutto l'introduzione, lui racconta di aver avviato questa sua riflessione a partire dall'ascolto di alcune situazioni particolarmente tragiche accadute nel contesto contemporaneo. Quindi si pone già, assume una postura diversa, si pone già dalla parte di chi ha subito un torto. Si mette lì in orecchio, con l'orecchio attento, in ascolto, della sofferenza di coloro che hanno subito un torto. Questo è il primo tratto di originalità, di postura altra. Ma poi ce n'è una seconda, che forse è quella anche che più mi ha particolarmente stimolato, forse anche perché è andata a toccare una corda già in me particolarmente sensibile. Il modo di fare teologia di questo saggio è quello di intrecciare teologia in narrazione. L'autore stesso, infatti, dice di proporre non solo degli itinerari di riflessione, ma è un vero e proprio metodo di teologia narrativa. Sono interessanti anche i quattro romanzi che il professor Pozzo, ma non solo cita, si pone in continuo dialogo con questi autori. Romanzi contemporanei, molto variegati tra loro, molto stimolanti. Uno in particolare, che personalmente mi ha toccato molto, è Il gegante sepolto di Shiguro, poi Gilead della Robinson, che sicuramente avete, che conoscete, La Rose di Luisa Erdrich e Amatissima di Toni Morrison. Questi romanzi non sono soltanto citati, ma ci conducono dentro degli spazi, dei tempi, io direi altri, ci conducono in un mondo altrove. in un modo di riscrivere, affrontare la teologia morale davvero anche con un linguaggio altro. Perché l'autore ci suggerisce una via teologica che non è quella dell'affermazione, ma è quella dell'evocazione. è una scrittura, dice il professor Potts, che si fa domanda, lo avete ascoltato nell'ultima parte, che lascia cioè spazio a dei concetti inespressi, a degli enigmi della vita, dicendoci soprattutto che sul perdono forse abbiamo anche detto troppo e fatto troppo poco. Una riscrittura, quella che il professor Potts ci propone, che non vuole tradire l'autenticità del dono della fede, ma al contrario, ne vuole essere una nuova riscrittura, una nuova tessitura di significati proprio della morte e risurrezione di Cristo nelle nostre esistenze. E come non, allora a questo punto, come non richiamare quello che proprio recentemente Papa Francesco, sappiamo tutti in questa quasi anche sorprendente per alcuni, in alcuni versi, lettera sul ruolo della letteratura nella formazione, nella formazione teologica, Papa Francesco proprio afferma La letteratura è una via di accesso alla teologia, un luogo di interpretazione della vita. Serve dunque a discernere i significati e le tensioni fondamentali dell'essere umano. Ecco che allora questo saggio ne è in qualche modo una vera e propria proposta di via altra, nuova, alla teologia di cui abbiamo estremamente bisogno. Però torno, dopo questa forse di vacazione, al punto da cui siamo partiti, al punto anche più scottante del saggio. Ed è la domanda che il saggio ci pone a tutti noi ma è possibile perdonare senza ferire quanti hanno subito un torto? Ecco, mentre leggevo queste pagine a noi italiani, lui ovviamente evoca fatti drammatici diciamo così di attualità americana ma ovviamente a noi italiani a me in particolare è venuto in mente un episodio particolarmente significativo a questo riguardo. Mi sono tornate in mente quelle parole tragiche e drammatiche di perdono di Rosaria Costa al funerale delle vittime della strage di Capaci del 1992 penso indimenticabili. Erano parole strazianti ma profondamente vere no? Erano le parole di una donna ferita una donna ferita che dona il suo perdono doloroso tragico ma se vi ricordate domanda un prezzo lei dice io vi perdono ma voi dovete mettervi in ginocchio sono parole che ci scavano parole nude asciutte ma dure come pietre sono lì a domandare ecco una via di riconciliazione anche questa anche questo avvenimento nella nostra storia e anche questo è una narrazione che vuole così liberarci da una visione un po' distorta del perdono e ci aiuta a ricostruire davvero una visione del perdono e scusate l'espressione forse un po' azzardata ma una visione del perdono violenta a volte la domanda del perdono è violenta nei confronti delle vittime ma come abbiamo ascoltato da Matthew uno dei paradossi del Vangelo è proprio come dice Matteo perdonate il nemico come possiamo mettere insieme allora queste due dimensioni ma è possibile metterle insieme Gesù non solo ci ha lasciato il comandamento dell'amore ma ha vissuto sul proprio ecco legno quel legno storto contorto nodoso della croce lì sulla croce Gesù l'innocente il senza colpa ci ha donato gratuitamente del perdono e fa dell'amore dei nemici la misura assoluta del dono del suo dono allora il perdono da quel punto di vista dal legno storto così come trasuda dalle parole del Vangelo ecco non è una reazione emotiva un buonismo diremo noi no? non è un sentimento provato nei confronti della persona che ha compiuto in torto questo sarebbe anche disumano io direi no? ma è prima di tutto rinunciare alla ritorsione Gesù sulla croce dice non sanno quello che fanno non sanno quello che fanno il vero perdono infatti mi raggiunge da un posto altro è una piena finale riconciliazione che è il lavoro escatologico di Dio in Cristo si apre così in questo spazio di un altrove cioè di un luogo altro da cui il perdono l'unico mi raggiunge lo spazio-tempo del nostro perdono che è anche uno spazio-tempo di pazienza che non può essere affrettato tanto meno imposto come ci ricorda Matthew Potts è soltanto un perdono che può venirmi incontro che mi raggiunge ai cristiani a noi cristiani è chiesto di perdonare cioè di uscire da una logica della ritorsione della vendetta di quel godimento a volte anche sottile per il dolore che infliggo all'altro o a me stesso qui sarebbe tutto il tema dell'espiazione andiamo a aprire magari poi nel dialogo che ne facciamo dell'espiazione della soddisfazione anche il pensiero di un noto filosofo da noi molto conosciuto amato Ricœur anche nel suo saggio ricordare dimenticare perdonare anche Ricœur afferma che il passato gravato dalla colpa non viene cancellato o rimosso ma alleviato mediante il riconoscimento dell'altro il perdono allora è una via che io posso percorrere solo nel momento in cui colui che mi affligge un torto è il volto di un altro è il volto umano di qualcun altro con le sue storture con i suoi torti con le sue ferite con le sue piaghe dice Ricœur allora il perdono è una forma di sano oblio che non mi imprigiona dentro un passato che non vuole passare ma mi apre mi schiude a incontrare il volto di un altro che in qualche modo mi permette allora di compiere questo itinerario di guarigione perché mentre la punizione la logica della legge del taglione mi imprigiona nel passato quasi illudendomi di avere così una soddisfazione riparatrice la rinuncia alla ritorsione non cancella la ferita come dice Mamo del torto subito ma ci permette di vivere in compagnia di essa con le ferite si può convivere con le cicatrici si può stare anche bene il perdono allora è una prassi dice l'autore di non ritorsione si fa rispettosa del dolore non obblia il torto subito ma lo lenisce aiuta quanti lo hanno subito ad accettare il passato senza restarne schiavi e così impedire a questo di continuare a perpetuare il suo alito di morte il perdono allora come si conclude il saggio è più un lutto che un miracolo più un lutto inteso come un percorso temporale un cammino che senza svilire o negare il perdono è un tentativo di ripartire da esso di rifiorire quindi emerge alla fine nelle ultime pagine di questo saggio il perdono come l'autore si esprime così una pratica tenace di riscrittura della propria esistenza con una postura allora potremmo chiudere così storta attorcigliata segnata come legni storti grazie 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 a tutti